Riteniamo che sia fondamentale restituire alle province funzioni che vengono di fatto concordate con gli enti locali. Quindi a differenza della proposta che Luca Zaia fa, noi riteniamo che siamo di fronte ad una grande occasione per restituire ai territori efficacia ed efficienza nell'erogazione di determinati servizi, ma dobbiamo avere il coraggio e anche l'umiltà di saperci confrontare con i sindaci che meglio di chiunque altro conoscono i bisogni dei propri cittadini. Zaia perde una grande occasione. Continua, come il suo metodo ormai lo fa conoscere a tutti, a dare sempre contro il governo, ma di fatto copia le proposte del governo senza avere il coraggio e la creatività di modificarle anche da un punto di vista autonomistico. Quindi fa ricorsi alla Corte Costituzionale, come in questo caso che vengono bocciati sonoramente, ma non propone niente di nuovo. Con le nostre proposte emendative invece noi vogliamo restituire di fatto ai comuni, alle province e quindi ai territori delle funzioni, soprattutto in determinati ambiti e settori, a cui non possiamo rinunciare. Tra le funzioni noi riteniamo che vada da subito aggregato il compito delle province per quanto riguarda le funzioni del trasporto, così pure per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e terzo, per quanto riguarda la gestione della difesa idraulica del territorio, fare da coordinamento rispetto ai vari soggetti che oggi esistono per arrivare a un unico soggetto. Per la città metropolitana riteniamo riduttiva la impostazione che sta dando la Giunta. Può essere il motore non solo per il proprio territorio ma per tutto il Veneto e quindi le competenze di programmazione insieme alla Regione per quanto riguarda i nodi strategici del trasporto, della viabilità, del porto, dell'aeroporto, non solo ma anche per quanto riguarda il rilancio dei poli fioristici, per quanto riguarda il turismo e le attività culturali di questa area metropolitana, che vanno giocate in maniera più coraggiosa. È necessario per garantire il personale che vengono aggiunti altri 15 milioni all'anno, non solo ma anche la competenza del personale deve in questo momento essere accentrata alla Regione che poi a sua volta lo ritorna in maniera puntuale alle province per quelle funzioni delegate che noi abbiamo proposto nella nostra manovra emendativa. Noi riteniamo che per la provincia di Belluno vadano adesso trasferite le funzioni e anche indichiamo come e quali risorse poter garantire lasciando piena autonomia gestionale ed economica a questo territorio che ha delle caratteristiche specifiche che vanno rispettate.